Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi finalmente vi porto le tanto attese e tanto desiderate tattiche e istruzioni del 5-3-2 infatti in questi giorni ho avuto modo di indagare un po' Rubacchiare a destra e a sinistra ho visto un po' le tattiche di Pepe il Botteglio, per gli amici Pepe imbottigliato dell'altro giorno il ragazzo che abbiamo visto battere Anders in maniera molto convincente ho chiesto al mio amico Giovi, proprio l'era della Fiorentina, quali fossero le sue insomma ho messo un po' il tutto insieme in questo calderone e ho testato le tattiche sono arrivato alla conclusione su quali fossero al momento quelle che mi soddisfacevano di più quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere passiamo subito sulla schermata non fate caso alla mia squadra perché è una squadra esotica visto che ho venduto un po' tutto in vista dei Toti ed eccoci qua, 5-3-2, stile di difesa vediamo immediatamente equilibrato scelta abbastanza scontata in questo caso perché non andiamo a mettere sicuramente un pressing sul primo controllo per evitare di in qualche modo disgregare quella che è l'unità che questo modulo ci dà in maniera automatica da parte della CPU non mettiamo chiaramente neanche pressing una volta persa palla per non produrre lo stesso effetto né tanto meno pressing costante perché dal primo minuto è un qualcosa di inutilizzabile visto che i giocatori si stancherebbero troppo e non andiamo a utilizzare neanche ripiega visto che comunque si tratta di un modulo già difensivo di suo quindi utilizziamo equilibrata perché ci permette di poter andare a gestire per bene la difesa le uscite anche a centrocampo in base a quelle che sono le diverse situazioni per quanto riguarda l'ampiezza andiamo a utilizzare in questo caso 3 perché andiamo a utilizzare 3? perché essendo un modulo molto molto compatto non dobbiamo andare a rovinare questa sua caratteristica andiamo ad utilizzare un 5, un 6, un 7 vedete come si andrebbe a perdere quell'effetto roccaforte tipico del 5-3-2 che dunque non avrebbe neanche più quello schermo da parte dei centrocampisti su quelli che sono i 5 difensori quindi 3 mi è sembrata la scelta più giusta per quanto riguarda la profondità ho deciso di utilizzare 6 e questa però è una via di mezzo in quanto sapete che vi ho detto più volte che da 7 in poi la difesa spesso e volentieri spamma da solo la trappola del fuorigioco con i tempi giusti in determinate occasioni questo non me la sono sentita al momento di lasciarla con questo modulo qua per lo stesso motivo per il quale utilizziamo il pressing visto che essendo un modulo molto compatto non voglio che mi si disunisca in automatico se magari voglio andarmi a fare un'uscita un po' più abbentata me la vado a fare io selezionandomi i giocatori così come se voglio andare a utilizzare e sfruttare la trappola del fuorigioco preferisco attivarla io dal tastierino con sotto sotto quindi senza che vada a farlo in automatico la CPU e 6 è un buon parametro perché comunque avere una difesa alta e compatta vi permette di poter recuperare palla in una zona del campo magari che vi può permettere di azionare un contropiede e una ripartenza veloce per quanto riguarda lo stile d'attacco andiamo a utilizzare ancora una volta equilibrato non palla lunga visto che non abbiamo gli esterni non manovra veloce visto che i giocatori appunto si trovano tutti quanti molto vicini gli uni agli altri non possesso palla visto che questo è un modulo che vi permette già di gestire il pallone in base alle diverse situazioni di gioco come vi pare piace quindi equilibrato perché magari se vogliamo velocizzare e lanciare una delle due punte in un filtrante premiamo l1 e la facciamo scattare se voglio essere più riflessivo e tenere palla la tengo semplicemente senza che questo vada a inficiare in maniera automatica sulle impostazioni della squadra per quanto riguarda l'ampiezza in questo caso andiamo a utilizzare un 7 un 7 che ci permette quindi di far sì che poi nella fase di ripartenza la nostra squadra tenda ad allargarsi per andare a sfruttare innanzitutto quella che è la posizione dei terzini che in questo caso diventano un core fondamentale della manovra d'attacco perché senza i terzini la manovra rimane molto 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 isolata e sterile e andiamo a utilizzare poi giocatori in area 6 perché densità in area quando stiamo attaccando dobbiamo assolutamente farla ovviamente giocatori in area 6 non vuol dire che 6 saranno i giocatori che si troveranno materialmente in area vuol dire che ci sarà una propensione ad aggredire l'area di rigore da parte dei vostri giocatori propensione che poi si verifica quando andate a fare comunque movimenti con l'analogico eccetera eccetera vedete che i vostri giocatori poi in maniera automatica si buttano dentro quindi 7 di ampiezza e 6 di giocatori in area per quanto riguarda angoli e punizioni invece utilizziamo 2 e 2 quindi viste le tattiche che vi ripeto possono subire anche una variazione con un 7 per quanto riguarda la profondità andiamo a vedere quelle che sono le istruzioni non fate caso alla squadra esotica visto che ho venduto tutto per i toti come vi dicevo per quanto riguarda le istruzioni abbiamo chiaramente ai 3 difensori centrali resta dietro in attacco ai 2 terzini non ho messo sovrapponiti o partecipa all'attacco mi ho messo attacco equilibrato questo per far sì di andare a sfruttare io a mio piacimento il terzino che voglio che accompagni l'azione l'unica cosa che ho cambiato è il tipo di inserimento invertito come potete vedere invertito che cosa vuol dire? che l'attaccante andrà a tagliare per l'esterno e non per l'interno quindi funzionerà effettivamente come un vero e proprio esterno dandovi la possibilità di poter accompagnare i vostri 3 centrocampisti e attaccanti in quello che risulterà un vero e proprio effetto sorpresa per l'avversario che spesso e volentieri mentre sta marcando l'attaccante o il centrocampista si ritrova il terzino a arrivare con lo scarico e poi dare palla al centro per situazioni molto favorevoli per quanto riguarda poi il centrocampista centrale quindi diciamo il mediano abbiamo resta dietro in attacco e copertura al centro per quanto riguarda il cc di destra abbiamo resta dietro in attacco e copertura al centro a quest'altro invece abbiamo semplicemente copertura al centro quindi lo lasciamo un po' più libero di poter agire in maniera tale che appunto possa anche lui andare a dare una mano alla manovra offensiva questo perché in questo modulo i due attaccanti sono totalmente isolati perché non hanno l'appoggio degli esterni cosa che dobbiamo appunto andare a sopperire col terzino non all'appoggio di un trequartista che in questo caso non è presente quindi diciamo che nella fase di avanzata questo modulo si può anche trasformare in un 3-5-2 in un 5-2-1-2 con uno dei due dei centrocampisti che si sgancia a fare il trequartista per quanto riguarda le due punte proprio per evitare che si vada a continuare a creare questa spaccatura in questo modulo non utilizzo inserisciti alle spalle bensì se voglio andare ad utilizzare l'inserimento come vi dicevo in precedenza utilizzo l'L1 ve li faccio scattare e come si risolve il problema utilizzo invece rientra in difesa per andare ad aumentare quella sensazione di roccaforte ma ovviamente rientra in difesa non vuol dire che l'attaccante ve lo ritrovate in aria rientra in difesa che sarebbe anche poi l'impostazione che si recupera mettendo con il tastierino ripiegamento attaccante vi porta i vostri giocatori sulla linea del centrocampo più o meno anzi neanche mai troppo dietro più o meno al ridosso della linea di centrocampo quindi a dare una mano in quella che è la prima fase di impostazione del vostro avversario e può essere sicuramente una buona chiave quello che però ci tengo a dirvi ragazzi in merito a questo modulo è che non è un modulo facile perché il primo approccio che potreste avere è quello di essere più solidi dietro ma potreste fare una fatica veramente boia a trovare degli spazi davanti quindi non pensate di diventare invincibili mettendo questa difesa 5 se volete provarla provatela come si fa con qualsiasi altro modulo insomma avendo la consapevolezza che questo è un ottimo schieramento ma che necessita del tempo prima di essere masterato insomma non è che mettendo questo modulo siamo tutti in grado di sconfiggere il buon bimbo danese voglio dire quindi utilizzatelo sì ma con le pinze insomma non dovete avere neanche diciamo la fretta di dire no vabbè che è sto cosa non riesco a fare niente cioè io pure l'anno scorso quando ho iniziato ad usare il 442 facevo una fatica bestia poi piano piano mi è entrato in testa quindi per me è assolutamente un modulo da provare assolutamente un modulo che può rientrare tra quelli che mi chiedete sì quel modulo metto per difendere ecco questo per esempio può essere un ottimo modulo per difendere cosa che io solitamente non faccio mai ma questo per barricarvi è veramente l'ideale quindi niente raga fondamentalmente per questo video è tutto spero vi lascio intanto sulla magnifica squadra esotica che ho creato spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando lasciate un like e un commento iscrivetevi al canale che stiamo andando una bomba trovate in descrizione tutte quante le info per le live giornali sulla piattaforma viola è nuda ragazzi a me non resta altro che salutarvi vi auguro una buona giornata ciao